Tu sei una strega? No. Voglio dire, chiamarci strega è come chiamare un bravo studente secchione o un atleta a testa vuota. Noi preferiamo il termine maga. Non volevo rompere quelle finestre, ma i miei poteri crescono ogni giorno e non sempre riesco a controllarli. Che fai? Svieni? Mangia un biscotto. Lo zucchero aiuta molto. Li ho fatti stasera. Con farina per biscotti.